I carabinieri hanno eseguito stamane su delega della procura un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della DDA nei confronti di sei presunti affiliati al clan catanese Santa Paola Ercolano nell'ambito di indagini su due omicidi di mafia avvenuti a Catania nel 2014. Due dei provvedimenti restrittivi sono stati notificati in carcere. Con il provvedimento cautelare si fa chiarezza sui due episodi che sarebbero avvenuti nell'ambito di contrasti per questioni di supremazia e di controllo di alcune attività economiche in seno alla famiglia Santa Paola Ercolano tra la fazione che faceva capo ad Antonino Santa Paola ed Alfio Mirabile e quella che faceva riferimento a Giuseppe Ercolano e Francesco Mangion. L'operazione è stata denominata Dakar. Le persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi sono Luigi Ferrini di 46 anni, Angelo Pappalardo di 42, Pietro Privitera di 42, Marco Strano di 48. L'ordinanza è stata notificata in carcere ad Arnaldo Santoro di 43 anni e Maurizio Zuccaro di 59. Le indagini riguardano gli omicidi di Salvatore Di Pasquale detto Giorgio Armani avvenuto a Catania il 29 aprile del 2004 e di Michele Costanzo commesso sempre nel capoluogo etneo il 3 maggio successivo. I delitti sono stati oggetto di precedenti procedimenti penali in seguito ai quali è stata affermata la responsabilità di Salvatore Guglielmino e Dario Caruana in ordine all'omicidio di Di Pasquale e di Lorenzo Saitta in relazione all'omicidio di Costanzo.